La nostra scuola partecipa a una, fa parte di una rete, la rete per l'integrazione degli alunni stranieri della città di Treviso che è una, come dire, associazione di scuole, scuole di ogni ordine grado, quindi primarie, dalle scuole materne ovviamente primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ed è una rete importante perché ci fornisce supporti, sussidi, strumenti per accogliere nel miglior modo possibile i ragazzini stranieri che ci arrivano nel corso di tutto l'anno scolastico o che noi ereditiamo dalla scuola elementare. Una storia ben riuscita di integrazione, se la ricorda? Sì, ne ho anche una dentro in classe, una ragazzina che viene dal Bangladesh, è timida, molto riservata ma è una ragazzina che sta benissimo in classe, che ha delle amiche vere. Amena ha 13 anni, da quando aveva solo 8 anni lasciò il Bangladesh, il suo paese d'origine, per trasferirsi in Italia con la famiglia. Arrivata in terza elementare, imparò l'italiano in soli tre mesi, ma la sua è una storia un po' particolare. Amena infatti ritornò nel suo paese per lunghi periodi, prima di stabilirsi definitivamente a Mogliano Veneto. Oggi frequenta la seconda classe della scuola media Totti Dal Monte, in banco con lei la sua migliore amica, Carolina. Amena, quanti anni hai? Io ho 13. Da quanti anni è che sei qua in Italia? Sei. Quindi sei arrivata alle scuole elementari? Sì, in terza. Ti ricordi quando sei arrivata? Sì, un pochino. Che cos'è che ti ricordi? Avevi paura quando sei entrata nella nuova classe? Sì, perché non sapevo parlare allora, non avevo nessun amico prima, però mi hanno aiutato a imparare l'italiano. Quanto ci hai messo a imparare l'italiano? Tre mesi, tipo. Quanto ci hai messo a imparare l'italiano? Assi io, adesso hai messo a imparare l'italiano? Grazie a tutti.